Pensaci un attimo. Quante cose davamo per scontate? Tipo alzarsi, prepararsi, percorrere la strada per andare a lavoro, aprire quella porta, accendere quell'interruttore e poterci prendere cura dei nostri clienti. Davamo per scontata la nostra presenza, davamo per scontato il nostro esserci sempre. E ora che siamo tutti intrappolati in quarantena ci ritroviamo soli con i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni. Tasse, affitti, mutui da pagare. Entriamo in un vortice che lascia spazio soltanto alla paura. Abbiamo paura per noi, per la nostra famiglia, per i nostri dipendenti, per i nostri clienti. Notti insonni, giornate da incubo. In questi momenti siamo tentati di chiuderci in noi stessi e implodere di rabbia, mettendo in primo piano soltanto le nostre paure e le nostre preoccupazioni. Ok stop, ma noi siamo imprenditori e abbiamo scelto di aiutare le persone. Abbiamo la responsabilità di fare tutto ciò che è necessario per aiutare i nostri clienti e le persone che ci seguono. Questo è un momento di essere più forti, di dimostrare di essere più presenti, di essere più agguerriti che mai. Non possiamo permetterci di stare sul divano, non possiamo permetterci di aspettare. Bisogna reagire e prendere in mano le redini, bisogna trasformare in forza quella paura che ci ferma. È il nostro dovere far sentire la nostra voce, è il nostro dovere far sapere che noi ci siamo. Fallo adesso, non darlo per scontato. Ciao amici imprenditori in quarantena, eccoci qui in un nuovo video. Spero che il video che appena visto ti sia piaciuto ed è proprio nato in risposta a una domanda che viene fatta molto spesso in questo periodo di quarantena. Marco, come devo fare a comunicare in questo periodo? Come devo fare a far trasparire che sono una persona che vuole essere positiva e vuole andare avanti ma non vuole fare lo sciacallo? Allora, per risponderti parto con una premessa. Le power words, ovvero quelle parole in grado di manipolare l'attenzione delle persone, non esistono. Sono anni che mi occupo di pubblicità, di scrivere pubblicità, di redazione pubblicitaria o come molto spesso sento dire di copywriting. Queste parole ragazzi non esistono. Mettiamocelo in testa. Ok, non c'è modo di poter fare questo tipo di cosa ma c'è il modo di poter attirare l'attenzione o utilizzare un tipo di comunicazione più consona magari a quello che è il contesto storico e come in questo caso è un contesto molto particolare. Quindi bisogna essere molto delicati. Se tu hai guardato il video che ho appena pubblicato vedrai che ho utilizzato una tecnica di comunicazione molto semplice. Io ti ho semplicemente detto che io ci sono. Ok? Ovviamente quel video è fatto in maniera particolare proprio per prendere un bacino di persone molto più grande anche perché volevo attaccarlo proprio a questo video qua per spiegare qual è la strategia di comunicazione che c'è dietro. In sostanza ho cercato di ricreare un ambiente in cui la persona che lo vede si potesse immedesimare. Chiaramente parlo agli imprenditori quindi è un imprenditore. Una volta fatto questo ho semplicemente detto ragazzi io sono con voi, sono come voi e dobbiamo fare un qualcosa. Dobbiamo alzarci del divano, tirarsi sulle maniche e fare l'unica cosa che sappiamo fare. Ovvero metterci lì e parlare di quello che noi siamo. Ovvero imprenditori di qualcosa. Io per esempio mi occupo di marketing e comunicazione e questi video sono proprio fatti per aiutare le persone nel marketing e nella comunicazione. Questo video che ho appena visto è stato fatto per farti vedere come sia possibile con un cellulare come in questo caso che vedi qui è uno smartphone creare dei contenuti per le persone che ci seguono. Quindi la cosa che devi fare e che ti consiglio di fare è prendi uno smartphone, mettiti lì con un cavalletto, segue i quattro regole ovvero vai dritto in inquadratura, usa un pochettino di luci, insomma attenzione al microfono e parla ai tuoi clienti. Devi digli che ci sei. La cosa più semplice da fare, l'esercizio più semplice che ti dico di fare anche se questo video non lo pubblicherai mai è di provare a farlo. Prova a dire ai tuoi potenziali clienti, prova a dire alle persone che ti seguono che tu sei lì, sei pronto, i tuoi progetti per riaprire ci sono, hai qualche idea per andare avanti e sei più forte di prima. Non puoi stare sul divano ad aspettare, devi fare qualcosa, devi comunicare, devi fare vedere che tu hai le palle ferme, sei lì pronto a ricominciare. E l'unico modo per farlo è comunicarlo. In questo momento storico hai la possibilità di avere internet, di avere uno smartphone, di poter fare un video. Mettiti lì e fallo. È l'unica cosa che oggi funziona. Non pensare a fare strategie complesse, funnel come sento dire da tutte le parti. Ragazzi non serve a niente. Il funnel è un imbuto, l'imbuto oggi come oggi usiamolo per fare i travasi dell'olio e del vino. Non ci serve, ok? Queste sono strategie più complesse che in un momento come questo possono addirittura risultare controproducenti. Infatti la cosa che ti consiglio di fare è metterti lì, registra un video, fai questo esercizio, provaci, registra un video, di quali sono ai tuoi potenziali clienti, ai tuoi clienti, i tuoi progetti, ok? Digli che ci sei, che sei lì, offriti di fargli una consulenza gratuita in questo momento storico, spiegagli cosa stai progettando, digli che non andrei in vacanza, che sei lì, sei pronto a aiutarli. Se lavori nell'abbigliamento inventati qualcosa, inventati un coprimascherina, che ne so, per darti un'idea, perché tanto tutti avremo la mascherina, e di guarda io in questo momento non sono fermo, sto facendo, sto pensando, eccetera, eccetera. Hai delle cose in magazzino? Boh, parla di quegli prodotti, fagli vedere cosa sono, fagli vedere perché li hai scelti, fagli capire che sei lì per aiutare, ok? Ragazzi, io sono qua, l'unica cosa che posso fare è parlarvi di quello che so fare meglio. E se so fare meglio vendere libri, piuttosto che fare consulenze sull'abbigliamento, piuttosto che parlare di metalmeccanica o essere un parrucchiere, mi metto lì, ti dico, ragazzi, vi faccio una consulenza, chiamami, ti dico come tagliarti i capelli, come lavarteli, ti dico come farti le unghie, insomma, ragazzi, dovete mettervi lì e comunicare ai vostri clienti quello che sapete meglio, ovvero il vostro mestiere. Sono sicuro che c'è un qualcosa che potete fare, non mi venite a dire, eh, ma no, nel mio lavoro questa cosa non si può fare, non è vero. Si può fare, puoi parlare di qualcosa, puoi parlare di un argomento a cui ti sei interessato, inerente al tuo mercato, perché vuoi migliorare una determinata cosa che non funziona bene, insomma, fai qualcosa, ma il grido che tu devi utilizzare, il sottofondo che tu devi utilizzare, lo spirito e la filosofia che deve avere il tuo messaggio è noi ci siamo, siamo qui, siamo pronti a ripartire, non ci siamo mai fermati, siamo grintosi e l'unica cosa che non voglio fare, ragazzi, è abbandonarvi. Questo è il messaggio che ci deve essere, questo è il messaggio positivo che devi lanciare. Poi, se puoi, fare consegne, falle, ma devi sempre mantenere lo spirito di noi ci siamo per aiutare in questo periodo, voglio essere di supporto. Ovviamente non puoi pensare di lucrare e basta, ok? No, io prima vendevo e oggi devo vendere, ok? No, oggi le cose sono cambiate. Oggi devi mettere un qualcosa di più e tu mi vorrei dire, eh ma Marco, ma ci devo mettere anche magari la spedizione che mi devo mettere io a spedire? Ma che cavolo, già è un casino, già non ho i soldi per l'affitto e bla 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 bla, ok? Quello fa parte del prima. Non preoccupiamoci adesso di questo, lo so che è una cosa che ti chiude il cervello, ma non ci devi pensare. L'unico modo è mantenerti attivo, l'unico modo per superare questi problemi è andare avanti, andare avanti in maniera positiva. Se non lo fai tu non lo può fare nessun altro, non cercare aiuti dall'esterno, ok? Prima, il 90% dello sforzo è tuo, poi ci possono essere altre cose. Mi è stato chiesto tante volte, Marco, come devo comunicare in questo periodo? Così, prepara un video, prepara del materiale, un contenuto e fagli capire a tutti i tuoi clienti che ci sei. Questo video mandalo via WhatsApp, mettilo sui social, fai quello che vuoi, digli che sei pronto a fare una consulenza uno a uno, passa le giornate, io sto passando letteralmente le giornate al telefono. 20-30 telefonate al giorno, perché? Perché io devo supportare le persone, devo far sapere alle persone che io ci sono e sto anche facendo questi video per tutte le persone che mi seguono, perché adesso è il momento che si vedono le persone che non soltanto hanno il coraggio di comunicare, ma che sanno quello che dicono, che sanno fare il loro mestiere. Infatti, se tu guarderai quelli che fanno i marketer non professionisti, sono spariti, perché? Perché adesso è il momento di tirare fuori le unghie e di tirare fuori le qualità vere, non quelle finte. Ora bisogna comunicare in maniera professionale e bisogna dimostrare la professionalità di chi è magari 20 anni che fa questo lavoro seriamente. ed è quello che ti chiedo di fare a te. Non è nulla di speciale, non ti preoccupare se non sei capace, Marco tu parli facilmente, fai video da una vita. Sì, faccio video da una vita perché ho incominciato a fare i video, quindi questo è il momento anche per te, probabilmente per cominciare. Ti volevo anche informare che ci sarà un nuovo format che sto preparando con altre persone, dove andremo a rispondere alle domande, a dei messaggi audio che mi sono stati inviati. Quindi se vuoi farmi una domanda nello specifico, magari scrivimi su Instagram, mandami il tuo messaggio vocale, io risponderò ai messaggi vocali in video. Questo sarà un format a parte. Intanto continueranno anche questi video, spero che ti piacciono, di Imprenditori in Quarantena, dove parleremo di come affrontare questo periodo. Io sono qua di supporto. Mi raccomando, lascia un commento a questo video, magari scrivimi cosa ne pensi, scrivimi di cosa ti piacerebbe parlare. Ok, io prendo sempre spunto dal video, in questo video ho preso spunto da dei commenti e man mano vedrete che ce la faremo, usciremo da questo periodo e saremo più forti di prima. Da Marco Doria è tutto, alla prossima!